Una rapina a mano armata è stata compiuta questa mattina ai danni dell'ufficio postale sito in via San Francesco in pieno centro di Brindisi nei pressi dei giardinetti alle spalle della Capitaneria di Porto e a pochi passi dal lungomare Regina Margherita. Intorno alle 9.15 un uomo si è introdotto nell'ufficio avvicinandosi ad una delle casse adibite alle operazioni postali estraendo dalla tasca un taglierino intimando la cassiera che al momento era alle prese con un cliente di consegnargli il denaro a disposizione della postazione da lei occupata. La donna spaventata ed intimorita dal gesto ha consegnato il denaro al rapinatore che poi si è fatto aprire la cassaforte dal direttore che inizialmente era nel suo ufficio. Il malivente controllando anche il cliente all'interno dell'ufficio ha così raccattato in fretta e furia il denaro fuggendo poco dopo e facendo perdere le proprie tracce. Allertato immediatamente il 113 sul posto oltre alle volanti della polizia è intervenuto il reparto della scientifica per i rilievi del caso mentre la dipendente delle poste protagonista della rapina è stata tranquillizzata e condotta in questura per essere ascoltata dagli agenti incaricati delle indagini. In via di quantificazione alla montale della rapina che si aggirerebbe intorno ai 30.000 euro. Dalle prime indiscrezioni l'uomo avrebbe corporatura normale e dall'accento potrebbe essere della provincia di Brindisi. Avrebbe agito da solo ma gli inquirenti non escludono che possa avere dei complici.